Cari amiche e cari amici, parlo pianino perché non voglio dare fastidio come essere in biblioteca. Sentite la musichetta? Oh, che swing! Bene, è arrivato il mio libro. Mi sono anche regalata un segnalibro, poi me ne hanno regalato un altro, quindi mi sa che il segnalibro che mi sono regalata lo regalerò. E anche il segnalibro che mi hanno regalato mi sa che lo regalerò, perché, insomma, illustra un tema caro in famiglia. E quindi faremo, vabbè, un regalino, per modo di dire, insomma, si passa di mano. Bene, adesso vado a concludere le mie girate cittadine, vi racconterò poi di questo libro, vi racconterò di questa giornata, vi racconterò dei cantieri da aprire, da concludere, velocemente, velocemente. Ciao, ciao amiche, ciao amici. No, non voglio fare uno short. No, niente shortino, facciamoci almeno un minutino. Intanto vi faccio rivedere bene la libreria. È lunga a sinistra, è lunga a destra, a sinistra un po' meno lunga. Qua dietro fanno i pacchetti e non solo, il magazzinetto, qua dietro, vedete là? Guardate, ci sono due beccori, due, è un seminterrato. Un sacco di bei libri. Guardate che belle scaffalature incassate nel muro, una bella esposizione di dipinti. Abbiamo anche dei libri usati, promozione usato, tre per due, prendi tre e paghi due. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa, ma prima devo andare a fare un cambio in merceria. Poi torno qua e ci sto finché non arriva l'autobus. Ciao. Ciao. Ciao.